scopriamo insieme tra 3, 2, 1 e invece la super stella di e ci siamo, siamo arrivati al secondo video dell'anno su cacciatori aderani xl 2024-2025 finalmente, nel primo video, insomma sono molto emozionato perché questa è la prima raccolta dell'anno quindi ovviamente non vedevo l'ora nel primo video di questa raccolta ho appunto aperto lo startup perché abbiamo trovato già delle carte interessanti ma oggi qui ho 10 nuove bustine proprio per un motivo molto particolare come sapete, non so se lo sapete ho pubblicato negli ultimi giorni il video sulla mia rosa al fantacalcio è la prima volta che faccio il fantacalcio quindi diciamo che è andata così così però ve lo lascio qua sopra e anche qua, questa è la copertina comunque, quindi vi consiglio di andarlo a vedere in ogni caso oggi vi voglio proporre questo nuovo gioco che mi sono inventato che si chiama Fanta Adrenaline questo cosa vuol dire? mi potete sfidare tutti e cosa consiste? chi completa per primo la propria rosa al fantacalcio attraverso le bustine Adrenaline vince e salve a tutti sono qui per spiegare meglio le regole del Fanta Adrenaline XL 2024-2025 che non ho spiegato prima allora come vi dicevo vince chi per primo completa tutta la propria rosa dei giocatori e intendo proprio tutta la propria rosa cioè sia quelli titolari che i panchinali che addirittura i non convoccati ho deciso che le carte speciali appunto parliamo di questione carte speciali non varranno punti non conterà assolutamente niente perché ovviamente non tutti i calciatori hanno la propria carta speciale diciamo così quindi non tutti hanno le stesse possibilità quindi è solo una sfida contro il tempo praticamente io ho già fatto tutti ma io compro pochi pacchetti quindi potrei essere battuto molto velocemente le regole quindi sono qui solo carte base per vincere il Fanta Adrenaline 2024-2025 e torniamo al video e l'obiettivo è quello di andare a trovare tutti i giocatori della mia rosa all'interno delle bustine potete provarci anche voi vi sfido tutte sia creator che su youtube che voi da casa ecco qua queste sono le poche regole del Fanta Adrenaline iniziamo subito il Fanta Adrenaline 2024-2025 ed eccoci qui obiettivo di oggi ovviamente a parte il Fanta Adrenaline è anche trovare delle carte interessanti perché quello lì è sempre il primo obiettivo come sapete allora andiamo a pescare il primo mazzettino ok vedo già una carta molto interessante che sarà appunto la speciale di oggi allora partiamo con la prima che è Ioannu ok che non è un giocatore della mia rosa e Mandragora non ce l'ho ok poi abbiamo Ianto e abbiamo già il primo nel primo pacchetto attenzione Beuchema Beuchema che che vi dirò mi ha fatto anche un assist nella prima l'ho schierato perché l'ho fatto la mia prima giornata al Fanta Calcio è stata la terza giornata di Serie A e Beuchema mi ha fatto un assist grande Beuchema quindi lo mettiamo già qua il primo giocatore del mio Fanta Calcio completato diciamo così e abbiamo anche un logo chissà se sarà un logo plus è il logo della Juve molto carino questo ok in realtà pensavo subito fosse un logo plus perché il logo della Juve può anche essere scambiato per il logo plus visto che comunque il logo plus della Juve da quello che ho visto è molto simile lo mettiamo da parte e la carta speciale è un attaccante e penso sarà proprio una super stella ed è chiesa super stella signori che pacchetto questo è il codice per voi gran pacchetto questo gran pacchetto qua metto le carte diciamo carine che abbiamo trovato facciamo subito così se mi piace anzi la mettiamo qua ok così mi sembra una sistemazione abbastanza corretta passiamo al prossimo pacchetto dai che abbiamo già trovato ho già trovato un giocatore del mio Fanta Calcio mi sono messo avanti per così dire allora vediamo un po' questa non dovrebbe essere subito la carta speciale lo scopriamo insieme ok Lukumi poi Brown Order Altare Pierotti questo è il logo un altro logo sarà un logo plus no è il logo dell'Atalanta bel logo comunque e l'attaccante che è la carta speciale è l'Influencer Scamac quindi prima abbiamo trovato il logo della Juve e chiesa super stella e adesso abbiamo trovato il logo dell'Atalanta Influencer Scamac bella bella carta comunque e questo invece è il codice prossimo pacchetto per il momento ho un giocatore della mia Rosa del Fanta Calcio che ho trovato fino ad adesso quindi punteggio nel Fanta Adrenaline 1 ma va benissimo così al momento stati fortunati l'ho trovato subito nel primo pacchetto andiamo avanti con l'attaccante che è De Gateler cioè oggi praticamente Atalanta sto facendo Christensen Romagnoli Boer un altro logo stiamo trovando tutti i loghi praticamente oggi vediamo un po' di che logo si tratta ed è quello del Torino quindi chissà che il difensore non sia del Torino lo scopriamo insieme tra 3 2 1 e invece la super stella di Calafiori ma cosa sta succedendo questa è una gran carta Calafiori al momento ovviamente si trova all'Arsalon non è più al Bologna ma questa è una super super carta e la andiamo a mettere qua vicino a quella di Fede Chiesa e questo è il codicino prossimo pacchetto sono abbastanza soddisfatto per il momento ma anche trovare una carta speciale non sarebbe male non sarebbe male perché una carta bella tipo Top Player o una carta rara non l'abbiamo ancora trovata quindi panini per favore adesso non riesco neanche ad aprire il pacchetto ma questi sono dettagli ok ci siamo allora centrocampista ed è Musa del Milan difensore Casale poi abbiamo Fabian che ce l'avevo contro il fantacalcio la mia prima giornata Ellerson Vigorito ok stavolta non c'è più un logo ma c'è una carta speciale che è un attaccante ed è l'influencer di Ulrich del Monza e questo è il codicino proseguiamo col prossimo pacchetto ok dai su una bella carta voglio in questo pacchetto una bellissima carta voglio vediamo se saremo accontentati se sarò accontentato difensore prima primissima carta Pellegrini non è mio Gabbia e Wea ok e Stevez e vediamo sotto cosa c'è c'è un logo c'è un logo e il logo è quello dell'Inter logo plus super carta questa logo plus dell'Inter lo andiamo a posizionare qui vicino alle altre carte tra virgolette speciali che abbiamo trovato oggi e la carta speciale è un attaccante ed è anzi sono i diabolici man mi haila che bella carta man gran giocatore mi dice barellone e qua abbiamo il codice ci restano 5 pacchetti dai che per il momento il fanta per me non è cominciato benissimo anzi è cominciato bene e poi è finito tra virgolette male allora centrocampista ed è Gineitis bene non è il nostro sverco giusto no sverco scusate e pezzella shurs poi abbiamo ghiasi ok e vediamo la carta speciale di questo pacchetto avevo già intravisto prima sarà dovrebbe essere esatto un energy di arrui ok pacchetto da dimenticare direi questo questo è il codicino quart'ultimo pacchetto oppure possiamo anche dire sesto pacchetto di giornata per il momento solo un mio giocatore al fantacalcio male molto male proseguiamo con i giocatori di questo pacchetto abbiamo un difensore che è ancora Gabbia prima penso sia il mio primo doppione di quest'anno Gabbia primo doppione Lindstor che adesso non è più il Napoli no vabbè non ci credo l'abbiamo appena trovato quello che avevo sbagliato prima no vabbè no c'è tre doppi nello stesso pacchetto così tutte cose che ho trovato oggi tutti i giocatori che ho trovato oggi poi Calabria e per finire la carta speciale è Fabian Talento questa è buona bellissima la metto qua si vedrà poco ma la metto qua ok e questo è il codicino no molto carina questa ok proseguiamo col prossimo pacchetto non ne restano tanti vediamo un pochino allora questo lo sento bello pesantuccio allora si parte con Buchanan dell'Inter poi Dave Inter Lazzaro Incredibles il mio secondo uno dei miei difensori e secondo punto per il Fanta Adrenaline peccato che mi abbia tipo il giocatore titolare che mi ha preso meno e si l'ho schierato titolare ma voi non siete pronti alla mia rosa titolare all'asta del Fanta Calcio quindi andate a vedere il video Dossena e arriviamo alla carta speciale giusto? no sono due la fortezza del Torino molto bella questa carta guardate che bella che poi in realtà Bella Nova e Buongiorno non sono più al Torino ma noi ce ne frega relativamente e arriviamo alla carta speciale che è Belotti il Gallo Gallo Belotti al Como Energy è questo il codicino ultimi due pacchetti che peraltro sono anche uguali dai andiamo a vedere per il momento ho fatto due punti ne non ho trovato delle carte speciali a livello tipo dei top player che è il mio primo obiettivo ovviamente come si potrà intuire si parte col difensore che è Mancini di cui avevamo trovato l'influencer nei primi pacchetti Simeone poi abbiamo Biraghi poi passiamo all'attaccante che è Mutandua del spero si dica così ha un nome che mi fa spaccare del Cagliari Raffia del Lecce e finiamo con cioè finiamo no c'è un altro pacchetto l'Energy di Martins Martins e questo comunque è il codice e vabbè siamo arrivati all'ultimo pacchetto e tanto ho già capito come va a finire anche oggi niente top player ma arriverà anche il mio momento spero allora vediamo un po' tanto ho già intravisto l'avevo girato dalla parte sbagliata difensore che è Ghilardi ok bene abbiamo Danilo Tavzan te lo si dica così ancora Skamag quante versioni l'abbiamo trovata oggi Skamag Sansone e la carta speciale che è un Energy ed è l'Energy di Olm quindi chiudiamo questo codicino chiudiamo con questo quindi io in questi primi dieci pacchetti ho fatto due punti con Beukema e Lazaro e le carte migliori che abbiamo trovato oggi sono sicuramente queste Chiesa Calafiori peccato due giocatori che se ne sono già andati spediti in Inghilterra diciamo così il logo plus dell'Inter e Fabian Talento insomma non si butta via diciamo così quindi che ne dite volete partecipare a questo gioco del Fanta Adrenalin 2024 2025 bene allora premete quel maledettissimo tasto del like così faremo conoscere questo gioco a più persone possibili giocateci con tutti e ditemi se esiste già nel caso ve l'ho fatto conoscere io buon Fanta Adrenalin a tutti